Una grandissima partita anche oggi, abbiamo visto una grande Novara per esempio che era un po' mangiato nel corso della prima gara, noi abbiamo visto una grandissima voglia, a cui non siete riusciti, a cui non siete riusciti, a cui non siete riusciti, a cui oggi invece abbiamo visto un altro spirito proprio di Novara, cosa è cambiata ora tra gara 1 e gara 2. Sicuramente la mentalità, poi giocare in casa è un'altra cosa perché il pubblico ne abbiamo tantissimo sempre presente, quindi questo ci aiuta a dare sempre di giù, però sicuramente l'atteggiamento, sapevamo che dovevamo partire forte perché dovevamo mettere in pari la serie, l'abbiamo fatto, siamo state brave a mettere sotto un po' neanche i momenti di risposta. Non era facile anche questa sera, sebbene ci sia stato il supporto da parte del Balai Ivor, però ci sarà ancora il supporto nel corso di gara 3 e effettualmente anche nel corso di gara 5, perché ricordiamo che Novara si è classificata in maniera migliore rispetto a Modena, quindi questo può anche aiutare, si sente forse in una finale play-off, in un certo punto di stanchezza e serve molto semplice. Beh, sicuramente aiuta tantissimo, infatti siamo contenti di giocare le gare che contano di più in casa, però anche giocare a Modena dobbiamo partire forti senza pensare che non c'è tutto il nostro pubblico, ma comunque noi valiamo e quindi dobbiamo farle vedere sul campo. Grazie mille.